A Monta, al 623 milioni di euro, il valore delle esportazioni del settore ortofrutticolo pugliese nei primi tre mesi dello scorso anno. Un volume di affari che pone la Puglia al terzo posto tra le regioni italiane che più vendono all'estero frutta e verdura. È uno dei dati emersi da il sismografo documento realizzato dall'ufficio Statistiche e Studi di un on-camere Puglia in occasione di Fruit Logistica, il salone dei prodotti ortofrutticoli freschi che si svolgerà a Berlino. La ricerca si è basata sul settore pugliese che può contare su 32.552 sedi d'impresa che impiegano ben 61.139 addetti, numeri che rendono la Puglia seconda dopo la Sicilia in Italia e terza per produzione che si aggira su un milione di tonnellate. L'area della regione con maggior concentrazione di imprese ortofrutticole è la provincia di Barletta, Andrea Trani, seguita dal Foggiano, dalla provincia di Brindisi e dalle aree dell'Eccese che non sono a prevalente vocazione turistica. È discreto l'andamento dei bilanci aggiornato al 2022 relativo a 536 società di capitali in cui è stato registrato un aumento degli investimenti pari a 44 milioni di euro per l'acquisto di terreni, impianti e macchinari. Sono stati in contrazione invece sia i ricavi a causa dell'aumento dei costi dell'energia e sia la redditività con un calo del risultato operativo e degli utili.